L'iniziativa dei giusti è tra le più intelligenti e profonde di cui abbio sentito parlare recentemente. La ricerca dei giusti, cioè di coloro che in situazioni politiche estremamente difficili abbiano fatto la cosa giusta, abbiano scelto il rischio della vita, della sicurezza, l'opzione più difficile, a mio giudizio, ha un'importanza morale e storica e culturale gigantesca. Il fornire un esempio circostanziato di persone, di fatti, di luoghi, di problemi indica all'essere umano, ogni essere umano, in ogni contesto, che la cosa giusta si può sempre fare, perché alcuni l'hanno già fatto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie. Grazie.